Mi chiamo Nicoletta Lanza, io sono la fondatrice di Formanergy. Formanergy è un network di coach e abbiamo attivato una collaborazione con l'Università USP di Bambina Sabia e abbiamo dialogato con Miroslav, il vettore dell'Università, per intraprendere questo progetto dedicato ai ragazzi molto giovani in cerca di lavoro. Il coaching diventa utile per questi ragazzi nel momento in cui riusciranno a comprendere quali abilità e quali potenzialità possono esprimere nel mondo del lavoro domani nel loro futuro. Questo progetto prevede che noi faremo un'attività di team e poi avranno a disposizione delle ore individuali cosa che solitamente noi facciamo nelle aziende, negli ospedali o comunque nelle organizzazioni sociali e tutto questo poi verrà tradotto in un loro micro progetto di miglioramento che potranno poi effettuare e proporsi poi con chiarezza nel mercato del lavoro polacco.